Tempo, grazie Tiziano, non abbiamo il tempo di approfondire ma tra le altre cose lui ad un certo punto Tiziano diceva i Santi sono stati innovatori sociali e forse dovremmo ricordarci questo. Io ho avuto modo una volta di ascoltare la traduzione o l'esemplificazione di questa espressione e colpisce molto perché poi alla fine se ci pensiamo a San Giovanni Bosco che accoglieva i ragazzi ma poi li accompagnava lui personalmente a firmare il contratto di lavoro dei propri ragazzi, cioè andava lui a negoziare, i primi contratti lavorativi sono nati in qualche modo ecco attraverso la mediazione sua che è profezia a tutti gli effetti e così via. Ecco se leggessimo la storia dei Santi in questa modalità cioè di essere innovatori sociali anche nel settore della carità che la maggior parte dei Santi poi sono legati al discorso della carità però in ottica di innovazione ecco sarebbe molto interessante un approfondimento di questo tipo qui. Allora guardate mancherebbe in sé per sé a questo nostro incontro l'ultima parte che abbiamo chiamato la parte se volete di testimonianza in cui come desiderio accoglienza dell'invito del Papa, di stile di stile di vita nuova, accoglienza del percorso che la Diocesi fa sul saremo capaci di cambiare gli stili di vita, sarebbe questo fondo istituito proprio dal Santo Padre chiamato il Fondo Gesù Divino Lavoratore, ve lo ve lo richiamavo all'inizio e permettetemi però prima di dire che cos'è il fondo di raccontarvi brevissimamente una storia concreta e si tratta della famiglia Gigli, famiglia Gigli che ha cinque figli, quattro di loro sono ancora minorenni, lui lavora nel settore alberghiero, ristorazione e così via, la sua moglie lavora con un po' di ore nella pulizia delle case. Arriva il lockdown ovviamente si ferma tutto, entrambi lavorando in nero ovviamente non possono più e nemmeno lui che il signor Gigli lo chiameremo così, che ha altre piccole attività diciamo per arrotondare il proprio reddito e non riescono più a far quadrare i conti. Certamente nella piena emergenza questa famiglia ha goduto dell'accompagnamento della comunità parrocchiale, di tutta una serie di aiuti alimentari, piccoli saltuari, aiuti economici utilizzati in modo tale da non fare staccare le proprie utenze diciamo, ma pur affannandosi nella ricerca non riescono a diciamo così a far quadrare i conti. In definitiva ecco nonostante gli sforzi incessanti da parte del Sinogili anche di ricollocamento di fatti non è più riuscito a far quadrare i conti, anche a pagare l'affitto e anche le utenze sempre più improrogabili sono rimasti un po' senza soluzione. È plausibile pensare e immaginare che la famiglia necessiterà di un po' di tempo, anzi adesso con le nuove restrizioni un bel po' di tempo per recuperare una certa normalità gestionale di mantenimento, però è anche importante tenere nella dovuta considerazione la situazione compromessa dei suoi figli, insomma la didattica a distanza, il wifi che non c'è, non riescono ad affrontare la spesa per poter garantire un minimo di partecipazione scolastica ai loro figli, e le situazioni di disagio sono numerosissime insomma e anche una certo abbiamo notato un certo abbattimento psichico che la perdita del lavoro ha comportato con lui. Ecco per cui lui, questa famiglia è stata una delle prime se volete così ad essere segnalate al Fondo Gesù Divino Lavoratore per aiutarli un pochettino ad uscire da questa pericolosa apnea esistenziale, eccola chiamerei proprio così, che sta compromettendo il funzionamento dei polmoni esistenziali e gli equilibri familiari di queste persone, perché per loro il tunnel è un po' troppo buio. Allora, che cos'è il Fondo Gesù Divino Lavoratore, che ricordiamo è stato istituito da Papa Francesco? Una somma stanziata per coloro che hanno perso il lavoro? Sì, ma in realtà è molto di più perché si propone di essere uno strumento di animazione nella città per riscoprire lentamente un modo diverso di vivere la carità. Desiderio di aumentare la giustizia sociale, di ristabilire la dignità delle persone, più che un'elemosina da dare. E solidarietà anzitutto con coloro che sono diventati gli scarti di questa epoca e specie di questa pandemia. Le vittime principali, ve lo dicevo anche nella breve storia della famiglia Gigli, sono i lavoratori in nero e quanti sono. Siamo rimasti sbalorditi dal numero altissimo di uomini e donne che mettono insieme la giornata portando a casa letteralmente il pane quotidiano. Mi colpiva tantissimo ieri sera, tornando alla cittadella della carità, vedere di nuovo la folla numerosa di persone che aspettano di entrare all'emporio quasi come era durante il lockdown. Ecco il fondo gesù divino lavoratore è una possibilità concreta di creare solidità. Il Papa stesso nell'enciclica dice appunto che la solidarietà è creare solidità e la solidarietà non è altro che la consapevolezza che tutti siamo responsabili della fragilità degli altri. In questo senso quindi ogni azione volta a promuovere il bene dell'altro, facilitarne l'esistenza, sostenerla e a tutti gli effetti ecco un compattatore sociale, permettetemi di utilizzare questa espressione, un compattatore sociale della fragilità e quindi creazioni di solidità. Questo è anche l'occasione del fondo gesù divino lavoratore perché guardate ma che colpa hanno le persone che riescono a trovare lavoro solo in nero e quindi in lockdown ma anche adesso non riescono a lavorare e come fanno ad essere sereni se per loro non ci sono ammortizzatori sociali o altro. E cosa possono fare se non chiedere aiuto e sperare di riceverne da qualcuno? Ecco allora il fondo e la relativa alleanza per Roma che è stata immaginata è un segnale di allarme perché questi nostri fratelli e sorelle siano accolti e aiutati a rialzarsi. Ci sono tre passi all'interno di questo fondo gesù divino lavoratore. Lo chiamerei il primo passo è la formazione sui diritti. ecco operazione matematica. Se dividiamo la somma di 2 milioni di euro quanto era la dotazione iniziale, un milione il Papa e la diocesi di Roma, 500 mila al comune, 500 mila la regione, se dividiamo 2 milioni di euro per 337 parrocchie abbiamo 6 mila euro scarsi per parrocchia. Dividete questi 6 mila euro in rate di affitto, bollette e capiamo quante persone potrebbero essere aiutate. Quindi appunto la prima reazione ma che cos'è questo per tanta gente come dicono i discepoli davanti alla folla nel Vangelo. Abbiamo quindi deciso di studiare per capire se troviamo qualche sostegno delle persone che chiedono aiuto a partire dai loro diritti, dalle misure che le istituzioni hanno messo in campo. Ci ha accompagnato questo assunto molti di voi che sono qui presenti questa sera hanno fatto la formazione sui diritti. L'assunto era non possiamo e non vogliamo dare per elemosina ciò che è dovuto per giustizia. Chiunque arrivi presso i presidi territoriali dell'ascolto o i centri di ascolto va accolto, accompagnato rispetto ai suoi diritti di cittadino, di essere umano. Ecco il Fondo Gesù Divino Laboratore come primo passo ha lo sforzo di creare e di accrescere sempre di più la carità, la cultura della carità del diritto. Poi c'è la misura 1 all'interno del Fondo Gesù Divino Laboratore perché quando non si riesce a trovare misure istituzionali, i loro diritti, la persona può essere indicata per avere accesso al fondo con questa misura 1, l'abbiamo chiamata così. Che cos'è? È una erogazione di liquidità da 300 a massimo 600 euro a famiglia a seconda dei componenti per tre mesi, massimo 5. Perché questo? Come vi dicevo della famiglia Gigli, per dare un po' di tempo alle persone per riprendersi da questo schiaffo e umiliazione della riduzione quasi totale dei loro diritti e riuscire a dare qualche, e riuscire a dare qualche spiraglio di speranza, insomma ecco. Sapete, magari qualcuno di noi l'ha sperimentato, alzarsi la mattina come padre, madre di famiglia o comunque responsabile di qualcuno e sapere che non hai il cibo, nemmeno i soldi per fare la spesa o pagare una bolletta, crea dentro le persone sensazione di orizzonti corti e bui e costringe le persone a vivere e brancolare nel buio. Quindi la misura 1 è un modo di dire bene per un po' di mesi ti do la possibilità di arrangiarti nel mentre ti trovi qualcos'altro. Poi però ecco lo stesso fondo include in qualche modo la misura 2. Quanto sarebbe bello riuscire ad attivare questa misura per tutte le persone. Che cos'è? Si tratta della possibilità di attivare tirocini lavorativi, apprendistati, posti di lavoro, una nuova formazione professionale, diversificare le competenze, ecco il settore alberghiero, il settore diciamo della ristorazione è in profonda crisi e lo sarà per un bel po' di tempo. Quando una famiglia ha basato il proprio reddito solo su questo tipo di specializzazione non avendo più lavoro che fa? E allora l'idea di trovare ovviamente con le alleanze, i protocolli che stiamo facendo, le varie realtà, aziende private, speriamo anche ecco con l'alleanza per Roma, le istituzioni anche, ci fanno ben sperare di riuscire ad attivare sempre più questa misura 2 ma sarebbe un bene immenso riuscire a trovare con l'aiuto di tutte le persone, dei cittadini, di tutti i cristiani, a trovare nei singoli quartieri, tra le varie aziende, le piccole realtà lavorative, le famiglie, nuove modalità e nuove forme di lavoro e assumere le persone. Ecco il fondo si propone di sostenere proprio pagando per circa sei mesi anche questa misura per un inserimento lavorativo, un tirocino, un apprendistato per chi accede poi riesce ad essere accolto e incluso candidato diciamo così per questo fondo, avere sei mesi di tirocino di apprendistato pagati proprio dal fondo con uno spiraglio poi di inserimento e ecco è un percorso di risurrezione. Ecco questa sarebbe la terza, quindi i diritti misura 1 e misura 2. Bene, come si può partecipare però a questo fondo Gesù divino lavoratore nell'ottica di nuovi stili di vita, di un'altra logica come ci stiamo dicendo. Ecco mi permetto di dirvi tre punti anche su questo. La prima, il primo punto è sposare tutti, accogliere tutti dentro di noi questo assunto della carità, dei, della carità e della cultura dei diritti. Bisogna ripensare anche il nostro servizio ecclesiale di carità ecco, aiutare i poveri e trattarli da cittadini a pari dignità. I poveri non sono soltanto utenti o fruitori, io spesso dico ai collaboratori basta io non voglio più sentir parlare di utenti perché l'utente è soltanto uno che prende, no? Il povero è uno che che vuole anche dare, quindi metterlo nelle condizioni dei suoi diritti è una carità ancora più ampia. Poi il Papa stesso cita ad un certo punto questo, non mi voglio dilungare. Quindi il primo punto per entrare in questo fondo alleanza per Roma è in prima persona e attorno a noi creare sempre di più la cultura e la mentalità della carità dei diritti. Cioè non soltanto sostenere un momento di povertà ma agire anche perché le cause di quella povertà si possano eliminare. E su questo tutti possiamo dare un contributo nell'ottica di maggiore legalità, maggiore precisione, maggiore giustizia sociale, incoraggiare, sostenere attorno a noi questo. Poi il secondo modo di partecipare, di entrare in questo del fondo è condividere sia anche le proprie sostanze, perché no? Sapete si può aderire con una quota mensile immaginate o una tantum o adottando una famiglia o più famiglie o come gruppi piccoli o piccoli piccole realtà ecco adottare alcuni nuclei familiari che possano essere sostenuti ecco in questo. sapete io non voglio fare i conti in tasca a nessuno ma a Roma immaginate ci sono 300.000 statali, no? Perché i ministeri, le cose, va bene. Se anche il 10% decidesse di contribuire al fondo appunto per quelli che lavorando in nero e poi soprattutto hanno perso tutto, il 10% di questi statali, ecco do come esempio, aderisse a dare la decima del proprio stipendio o una percentuale della tredicesima, vi immaginate quale potrebbe essere il valore alto? Ma il valore alto anche per noi stessi, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quella dimensione della gioia che richiamava Don Giampiero non può essere sottovalutata. Ecco quindi la seconda modalità è condividere delle proprie sostanze. C'è poi un terzo punto coltivando la cultura del lavoro dignitoso, del lavoro in regola. Ecco io un po' di tempo fa l'ho già citato questo evento ma io ho detto di no ad una donazione di 500 euro da parte di una persona che voleva dare appunto per il fondo Gesù di Vieno Lavoratore 500 euro e ho detto di no perché all'interno della telefonata è venuto fuori che questa persona che voleva dare aveva dentro casa una persona che lavorava in nero. Io ho detto guardi questi soldi li dia alla persona, anzi se vuole l'aiuto pure io, mettiamo in regola questa persona, aderisca in questo modo al fondo Gesù di Vieno Lavoratore perché eliminare le cause di questo impoverimento è più ampio che dare per elemosina 500 euro. Ecco mi fermo, il desiderio del fondo Gesù di Vieno Lavoratore sottolineo e ho finito è proprio dire bene si può invertire, si può frenare questa curva discendente così di impoverimento, di scivolamento nella povertà da parte di molte persone, sì lo si può fare con la solidità, con la solidarietà, lo si può fare con la cultura dei diritti, ecco il fondo che la Diocesi di Roma ha proposto all'interno di quest'anno come uno degli strumenti per sostenere le famiglie e desidera essere questo attraverso i punti territoriali dell'ascolto dove appunto c'è maggiore attenzione sui diritti, altrimenti non ne verremo fuori guardate, altrimenti rischiamo appunto di rimanere nella vecchia logica che è da sempre. Io ho finito.